di questo nostro momento conviviale. Tentiamo di contestualizzare un attimino il titolo, ci ho ragionato un minimo, apprendimento continuo, 30 anni che scienziati d'organizzazione, Commissione Europea, ciascuno di noi che si occupa dei risultati umani ne ragiona, si confronta, tenta di concretizzarlo, diamogli una definizione tratta da un qualche documento dell'Unione Europea di tempo fa, attività di apprendimento intenzionale, intrapresa in maniera continuativa, quindi intenzionale e continuativa con l'obiettivo di migliorare conoscenza, abilità e competenze. Da dove nasce? Incremento esponenziale della velocità con cui il contesto in cui ciascuno di noi opera si modifica, appunto, questo impatta sull'organizzazione, sulle comunità, su ciascuno di noi. Problemi nuovi, nuove tipologie di problemi, inesplorati, quindi necessità di trovare soluzioni innovative, di pescarle al di fuori del proprio bagaglio costruito durante il proprio percorso di apprendimento formale. Questo impatta sulla comunità, sull'organizzazione, sull'individuo, nell'ottica dell'Unione Europea, quindi l'individuo e appunto l'apprendimento lungo l'intero arco della vita, necessità in un'ottica di occupabilità e di partecipazione attiva dal punto di vista delle organizzazioni, necessità di mettere in condizioni i propri collaboratori di imparare, di mettersi in gioco, di creare e di inventare soluzioni nuove per affrontare questi problemi nuovi che in precedenza non si erano verificati. Tecniche formative. Contemporaneamente abbiamo un'esplosione di piattaforme, grandi opportunità, grandi strumenti, ma probabilmente su questo volevamo ragionare tutti assieme, necessità di mettere a sistema questi strumenti, di ragionare, di identificare bene il target a cui per esempio queste nuove forme di formazione e di apprendimento possono essere destinate. probabilmente, vedremo se ci sarà la possibilità di ragionarci, non si tratta solo di un tema tecnico, di tecniche formative, ma anche di approccio alla formazione, nelle organizzazioni, quantomeno nel pubblico c'è questa tradizione di eterodirezione della formazione, il dirigente, la funzione delle risorse umane deve progettare, programmare le iniziative formative per colmare i gap che si riscontrano. Contemporaneamente però, spinta anche dall'Unione Europea, c'è un tema connesso alle necessità che ciascuno di noi, che le persone si attrezzino per ragionare autonomamente sui propri gap e per sfruttare e valorizzare le opportunità dal punto di vista formativo che oramai sono diffuse a 360 gradi. Ne parleremo con Vindice De Plano, mi sono copiato per le schede, psicologo, da anni si occupa a tempo pieno di formazione professionale e manageriale, ha acquisito una grande esperienza anche in termini di materia di learning, in particolare di simulazioni, serious game e altri metodi attivi. Bello sarebbe che ci ragionassimo su questi strumenti. Collabora come libro professionista con diverse, fra le realtà più vivaci del campo di learning, della pubblica amministrazione, e membro del direttivo regionale del Lazio dell'Associazione Italiana Formatori, ha il suo attivo numerose pubblicazioni sui temi della formazione e delle tecnologie didattiche, ho acquisito da internet una di queste pubblicazioni, apprendere da una macchina ipertesti, simulazioni e altri strumenti didattici ben poco virtuali. Professor Gino Roncaglia è professore associato di informatica applicati alle discipline umanistiche presso l'università della Tuscia e di learning presso la SNA, ha lavorato anche a progetti di informatizzazione dell'archivio storico della Camera dei Deputati e autori di diversi libri articoli, ne cito anche in questo caso il più recente, l'età della frammentazione, cultura del libro e scuola digitale. Poi abbiamo il professore Fisio Espa, accumulato grandissimi incarichi nella pubblica amministrazione, lo presento ovviamente soprattutto come dirigente di ricerca dell'Istat, ma è anche coordinatore del Dipartimento dell'Economia, Finanza e Statistica della SNA e professore di analisi dell'impatto della regolamentazione e della finanza pubblica, anche lui ha il suo attivo numerose pubblicazioni. Poi abbiamo Antonio Ottaiano che è il dirigente responsabile del servizio Chinistat, si occupa di formazione, ha una consolidata e pluriannale esperienza in materia di formazione, dal punto di vista progettuale e gestionale. Partirei con Antonio. Grazie Paolo Weber, buongiorno a tutti. Come diceva Paolo, io mi occupo di formazione in Istat e quindi cerco di affrontare il problema dell'apprendimento continuo dal punto di vista di un'organizzazione che muove appunto dalla consapevolezza che le competenze del personale, la conoscenza dei propri dipendenti, costituisce, come diceva anche il Presidente stamattina nel suo intervento d'avvertura, l'asset, la risorsa principale dell'organizzazione. E quindi dicevo dal punto di vista di un'organizzazione che ha questa consapevolezza e che quindi si pone il problema di come gestire i processi legati alla conoscenza, al modo in cui questa viene sviluppata, creata, diffusa, socializzata e si trasforma poi in competenza collettiva. E quindi che tipo di risposta dal punto di vista dei sistemi di apprendimento e degli ambienti di apprendimento un'organizzazione deve dare. Quando parliamo di ambienti, in realtà noi abbiamo già un ambiente che è il nostro posto di lavoro. Cioè in realtà come sappiamo, insomma la letteratura ce lo dice, ma poi lo viviamo anche proprio nella nostra esperienza, noi apprendiamo fondamentalmente sul posto di lavoro dalle tante occasioni che si determinano sul posto di lavoro attraverso incontri, la chiacchierata del collega, riunioni, tutto quello che va nel filone dell'apprendimento informale che grossomodo ci contribuisce per il 70-80% si dice in letteratura alla conoscenza, le competenze che sviluppiamo sul posto di lavoro. E fondamentalmente questo significa che appunto dobbiamo guardare all'apprendimento come un processo che non è separato dall'attività lavorativa ma che parte dell'attività lavorativa. Quindi non pensiamo più alla separazione netta, tempo formazione e tempo di lavoro, ma sono queste fasi e momenti fortemente legati tra di loro. E appunto da qui si parlava, prima Paolo parlava di lifelong learning, qualsiasi occasione all'interno, quindi un apprendimento durante tutto l'arco della vita, ma anche di life-wide learning, nel senso che dobbiamo sfruttare l'ampiezza piena dell'organizzazione e della nostra esperienza lavorativa per apprendere. E questo significa, riprendendo anche quello che diceva Paolo, che si viene a definire un nuovo patto tra l'organizzazione e il lavoratore. Non sono più io, organizzazione, che definisco, faccio l'analisi dei gap di competenza, definisco le tue esigenze, le identifico, sviluppo un piano di formazione e dico vai a seguire questa formazione. Ma io, organizzazione, in qualche modo condivido con te dipendente, con te lavoratore, una visione, una visione del futuro, di quella che deve essere lo sviluppo e la crescita dell'organizzazione e ti do quegli strumenti, quella consapevolezza per vivere le sfide che l'organizzazione tutta si pone e quindi ti do gli strumenti perché tu ti possa muovere e quindi prendere, diciamo, quello che ti serve e quello che vuoi prendere dal punto di vista delle competenze che devi sviluppare per poter crescere, per poter tu stesso dare poi un contributo alla costruzione di questo ambiente di apprendimento. Quindi a questo punto il lavoratore non è più soltanto un consumatore, diciamo, della formazione ma, come si dice, è un prosumer nel senso che contribuisce lui stesso ad arricchire il panorama dell'offerta formativa dell'organizzazione. Questo significa un modello che è così centrato sull'autoformazione, sposta in qualche modo il peso dello sviluppo delle competenze sul singolo, sulla persona. Questo significa quindi che il lavoratore deve avere una forte motivazione intrinseca ma deve essere nello stesso tempo fortemente motivato dall'organizzazione e coinvolto nel processo di apprendimento in vari modi, attraverso l'utilizzo di quelli che si dicevano prima i metodi attivi che sono quelli che favoriscono lo sviluppo, la socializzazione dell'apprendimento collaborativo e la sua traduzione in conoscenza dell'organizzazione. e quindi abbiamo appunto le varie modalità, dai laboratori alle comunità di pratiche, all'e-learning, al blended, con un ruolo nuovo e diverso dell'aula che non è più il luogo della lezione frontale ma è il luogo anche quello in cui si pongono problemi, in cui magari si attivano nuovi progetti, si lanciano dei progetti, si integra con la parte e-learning, quindi è un momento di condivisione, di scambio e non più il luogo della lezione frontale e seguendo questo approccio noi in Istat abbiamo introdotto insomma anche da tempo opportunità, occasioni diverse di formazione che appunto vanno oltre l'aula e quindi dal, adesso senza passare per tutto, insomma ne vedete alcuni, utilizziamo molto i webinar per esempio come momento informativo e di condivisione di situazioni per esempio di progetti innovativi o di situazioni di condivisione di esperienze formative partecipate all'esterno utilizziamo l'aula virtuale come modalità esclusiva online soprattutto per raggiungere i colleghi sul territorio con un'attenzione particolare quindi ad una progettazione che sia fatta in modo tale da rendere appunto da non riproporre meccanicamente l'aula, la dinamica dell'aula in una situazione a distanza ma con degli accorgimenti che vanno dal tempo abbastanza compresso diciamo di formazione all'utilizzo di varie tecniche di all'arricchimento attraverso esercitazioni, gruppi diciamo di lavoro virtuali seguiti da un tutor, interazioni su aree condivise o ancora pensiamo alle video lezioni per esempio abbiamo alcune video lezioni anche portate qui in conferenza che sono fruibili dal pubblico e che rappresentano appunto dei momenti, noi li chiamiamo pillole ma insomma pillole formativa si parla di micro learning per dire che sono lezioni autoconsistenti di pochi minuti fatte appunto per essere fruite in rete disponibili messe a disposizione dell'utenza abbiamo quindi e abbiamo poi altre forme che valorizzano invece soprattutto l'apprendimento informale l'affiancamento e il training on the job questi elementi appunto sono elementi di un ambiente insomma al quale stiamo lavorando da tempo e che riteniamo possa essere il modo attraverso il quale favorire il processo di sviluppo della conoscenza e sostenere anche quella, prima Nereo parlava della modernizzazione, del processo di modernizzazione che è attualmente in atto in istituto diciamo questo è un po' il panorama per il momento che volevo darvi tutto bene quindi? No, in Istat tutto bene no da un lato insomma anche se dovremmo valorizzarli è aperto? Sì, meglio meglio i questionari di gradimento insomma ci danno riscontri positivi rispetto a queste tecniche diciamo così non tradizionali e formative dall'altro è evidente che è necessario, come dire, non siamo riusciti ancora complessivamente come organizzazione a recepire questo passaggio culturale che mette la responsabilizzazione del singolo al centro del piano per vari motivi norme, contratti collettivi non ci danno una mano in questo senso nel senso che queste discipline sono ancora, come spesso succede, ancorate al concetto di diritto del singolo di recepire una formazione strutturata, etero diretta e quindi insomma i passaggi sono complicati passerei adesso, hai anche una presentazione? sì, ok passerei, prego facciamo questo scambio buonasera a tutti io penso che in questo periodo di grandi cambiamenti nelle organizzazioni grandi cambiamenti nello Stato e grandi cambiamenti anche nel nostro modo di pensare noi che ci occupiamo di formazione e in particolare quelli che si occupano di tecnologie devono giustificare la loro esistenza cioè rispondere alla domanda va bene, ma noi cosa ci stiamo a fare? qual è il nostro valore aggiunto? io ho un quarto d'ora per provare a dare una delle possibili risposte quella che naturalmente nasce dalla mia esperienza con le organizzazioni allora partiamo da partiamo da una grande sfida che è quella di capire qual è il pulsante giusto per mandare la slide avanti allora adesso informano quello che scende serve per andare avanti questo è un modello diciamo cognitivo interessante allora noi in tutta la nostra la nostra vita professionale e anche non professionale perché parliamo anche della nostra vita di studenti che bene o male ci ha coinvolto per 15-20 anni della nostra vita noi abbiamo avuto a che fare con due grossi modelli e li abbiamo sempre visti come antitesi allora il modello c'è il modello che si può definire come io ti racconto una cosa così tu poi la sai e l'hai appresa che è il modello scolastico il modello della lezione c'è un meccanismo per cui c'è una persona che sa alcune persone che non sanno la persona che sa travasa parte della propria conoscenza in quelli che non sanno questo è un meccanismo se poi il meccanismo non funziona la colpa viene data di solito a quelli che non sanno che dicono beh tu sei un recipiente ma sei un recipiente bucato la famosa frase entra da un orecchio esce dall'altro non rende molto bene questo passaggio senza lasciare traccia questo perché perché la verità vera è che il meccanismo di apprendimento per trasmissione della conoscenza è un meccanismo estremamente efficiente perché è molto veloce si possono passare grossi contenuti in pochissimo tempo però non è altrettanto efficace perché le cose che non vengono percepite in maniera profonda poi passano che si ricorda tutto quello che abbiamo studiato a scuola io qualcosa sì ma insomma tutti qualcosa ma possiamo dire che il 90% delle cose che ci sono state dette non sono state ritenute non ce le ricordiamo più allora c'è la grande cosa dice no basta con l'istruzionismo si apprende dall'esperienza questa è la grande scoperta diciamo anche nella scuola negli ultimi anni per cui nelle aziende poi dice facciamo il corso di rafting e camminiamo sui carboni ardenti naturalmente a piedi nudi perché con le scarpe sono buoni tutti ecco perché è importante perché l'apprendimento dell'esperienza invece ha una caratteristica interessante che è estremamente estremamente efficace perché è una cosa che ho imparato dalla mia esperienza personale e non la dimenticherò più quindi il problema della ritenzione non c'è ci sono due problemi però importanti su cui dobbiamo riflettere il primo è il problema dell'efficienza quando andavo a scuola la legge di Homme ci sta raccontata dal professore in tre minuti per scoprirle nel laboratorio perché noi facevamo un laboratorio perché avevamo una classe evoluta ci abbiamo messo alcuni giorni senza capire nulla perché naturalmente le misure non venivano adesso ve lo posso dire cosa significa? che molte volte l'esperienza si impara lentamente ma ancora peggio dall'esperienza si imparano spesso le cose sbagliate io sfido chiunque ad andare da una persona che non ha avuto nessuna istruzione e convincerla che è la terra che gira attorno al sole perché lui vede tutti i giorni siccome queste persone si alzano presto di solito per cui il sole che fa il suo percorso la sua esperienza profonda radicata l'esperienza che l'ho vista con i miei occhi gli dice esattamente il contrario di quello che noi sappiamo che è e allora io vorrei smontare un po' questa cosa dell'apprendimento dell'esperienza che è importante sì va bene però attenzione non va bene neanche così noi dobbiamo trovare un nuovo modo ed è questa dare una risposta a questa domanda esattamente è una delle cose che giustifica la nostra esistenza dei formatori allora da qui inizia secondo me nel senso che da qui parlerò di esperienza personale ma di una cosa che io penso e che sicuramente è una delle risposte ma non l'unica la risposta è costruire tra il racconto e l'esperienza costruire un'esperienza particolare che è un'esperienza virtuale quindi in un ambiente non reale un'esperienza profonda ma un'esperienza un mondo costruito apposta per farci dare quel tipo per farci fare quel tipo di esperienza che in quel caso è anche efficiente oltre a essere efficace perché noi costruiamo mondi apposta che sono mondi artificiali quindi finti ma in cui noi possiamo costruire la possibilità per le persone di fare delle esperienze d'apprendimento questo è un modo è una terza via forse che attenzione in teoria sarebbe stata possibile sempre e di fatto lo è perché tutta la ricerca scientifica si basa su esperimenti di laboratorio un esperimento di laboratorio cos'altro è se non una semplificazione della realtà noi però oggi parlo di oggi perché vent'anni fa era già diverso abbiamo delle macchine potenti abbiamo le tecnologie e possiamo creare dei mondi artificiali virtuali veramente efficaci ed è questo che allora noi possiamo creare un mondo in cui si vivono i problemi dell'adolescenza possiamo creare un'azienda in cui non si sa come andare a finire come riuscire a risolvere certi problemi quindi tu sei uno che cerca gira per le stanze parla con le persone trova soluzioni e magari scopri come nell'esperienza reale che tutte le persone con cui parli ti dicono cose diverse e non c'è nessuna possibilità di accontentare tutti questa per esempio è una grande esperienza che uno fa nell'azienda di solito dopo alcuni anni ma se noi vogliamo farla fare una persona che ne ho assunto sta lì da due settimane gli possiamo costruire un mondo apposta un mondo in cui come è successo diciamo questa è un'azienda di pazzi benvenuto nella nostra organizzazione infatti in data così possiamo costruire un ambiente terrorifico in cui siamo continuamente aggrediti da malfattori che cercano di rubarci i dati in cui dobbiamo imparare a difendere e difendere le nostre macchine ecco questa è stata un'esperienza interessante fatta con la SNA di cui vedo che molte persone fanno parte che è una grande realtà di apprendimento ecco qui abbiamo qui per costruire per far apprendere un modo per fare la pianificazione terminale della formazione abbiamo creato un ministero finto che è un ministero finto un po' più semplice di un ministero vero ma che per quanto riguarda la formazione per quanto riguarda questo tipo di dinamiche ha tutte le complessità questa è una cosa uno non se ne esce con mezz'ora questo è un gioco che è stato pensato per lavorare le persone 3-4 ore ma c'è qualcuno che mi ha detto no io ci ho lavorato 14 ore le ho contate perché mi mettevo la sera a cena dopo cena mi mettevo a giocare con questo game per cercare di perché non riusciva a capire perché qualunque piano di formazione facessi non funzionava e ho litigato con mia moglie perché mi sentiva parlare con una signorina e diciamo ma che stai facendo chat la sera mentre invece era la responsabile di questo ministero virtuale possiamo creare mondi di fantasia in cui un pezzo di realtà viene in qualche modo riprodotto come vedete sono mondi finti assolutamente finti allora quale diventa il nostro mestiere ecco questo io su questo volevo concentrarmi il nostro mestiere non è più quello di trasferire conoscenza perché molte volte è conoscenza che neanche noi abbiamo la conoscenza ormai c'è mentre vent'anni fa la conoscenza era qualcosa di irraggiungibile ma vi ricordate il manuale delle giovani marmotte ma io da ragazzino mi facevo impazzire perché in qualunque situazione questi tiravano fuori il libro piccolo e c'era tutto tant'è vero che è appena uscito il manuale delle giovani marmotte da mondadori papà papà me lo compri è delusissimo perché era un libro normale ma il manuale delle giovani marmotte è la conoscenza del mondo a disposizione che è diventato reale adesso il manuale delle giovani marmotte è oggi il web punto ce l'abbiamo quindi il nostro mestiere non è più quello di trasmettere conoscenza rientra nel nostro mestiere il fare il facilitatore adesso tutti dicono il formatore primo giorno di corso per formatori il formatore è il facilitatore dell'apprendimento sta lì e fa il coach sì ma per farlo una delle cose che noi dobbiamo imparare a fare è appunto costruire mondi oggi virtuali domani ma non parlo di dopodomani parlo di domani quando per esempio le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata invece di essere una favola saranno vere io per vere intendo che ci siano dei device che non diano il mal di testa dopo 5 minuti insomma devono funzionare un po' meglio di come stanno adesso ma a quel punto noi formatori avremo la capacità pensiamo alla realtà aumentata non solo alla realtà virtuale la capacità e forse anche il dovere di costruire mondi fisici che siano costruiti apposta per l'apprendimento quindi vedete che il nostro mestiere cambia profondamente ecco per concludere costruire mondi oltre ad essere una cosa molto carina da mettere nel nostro biglietto da visita che suona molto bene ma dà senso profondo al nostro mestiere e direi che per una volta giustifica pienamente il nostro mestiere di formatori che si occupano di tecnologie grazie mille molto molto interessante grande ottimismo fiducia quindi nella tecnologia poi magari ci ritorneremo adesso volevo un attimino vedere il suo punto di vista su questo mondo chiamando a fare il suo intervento il professor e amico Espa no no se si ritengono mi siedo perché mi devo sedere allora buonasera a tutti dunque io vorrei provare ad arrivare ad alcune delle considerazioni già introdotte da Paolo Weber da Antonio Tagliano e da Vindice De Plano utilizzando perché questo può essere il mio umile valore aggiunto la mia presenza ormai da dieci anni alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione perché questa ovviamente è una grossa esperienza sul campo che rispetto alla quale può essere utile raffrontare alcuni dei discorsi che sono al centro di questo incontro molto interessante e dunque intanto permettetemi alcune specificazioni di carattere terminologico se voi andate sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione ma se andate anche sul sito della più nobile così si dice Ecole Nazionale d'Administrazione voi trovate da anni una chiara distinzione tra formazione iniziale e formazione continua la formazione iniziale è quella riservata o ai nuovi dirigenti o ai nuovi funzionari che entrano nelle amministrazioni la formazione continua è genericamente ritenuta una forma di formazione aggiornamento dei colleghi che sono già presenti all'interno delle amministrazioni come vedete è una definizione molto restrittiva e lontana da quella accezione è stato già accennato più di lifelong learning che invece è associata normalmente a formazione continua il motivo è anche banale la formazione nel settore pubblico è radicalmente diversa dalle esigenze formative del settore privato cioè nel settore privato la formazione continua è molto spesso identificata viene spesso associata a transizioni spesso molto faticose da un lavoro all'altro è associata da transizioni epocali quale è quella a cui stiamo assistendo tra aspetti crescenti di automazione soprattutto nel settore dei servizi e competenze come dire presenti nel settore privato il settore pubblico per sua natura ha una rigidità molto maggiore sia di carriere ad esempio è difficile che la mobilità interna al settore pubblico è molto bassa per cui chi probabilmente inizia a lavorare all'interno del ministero dell'economia delle finanze o dell'istat magari solo in alcuni casi può deviare da queste traiettorie quindi le esigenze talvolta molto pressanti talvolta quasi drammatiche nel settore privato di riqualificazione professionale tramite processi formativi noi oggettivamente le viviamo meno ne viviamo altre come spesso accade addirittura forse più complesse perché proprio per il fatto che le traiettorie professionali sono inserite quasi sempre all'interno di un'unica amministrazione capire cosa serva alle singole persone alle singole amministrazioni sul piano della maturazione professionale non è affatto semplice quindi ecco teniamo conto che quando parliamo di formazione continua ci stiamo riferendo a degli ambiti completamente diversi ora qual è la vita della scuola come la scuola vive questa diciamo questa questa realtà la vive con difficoltà e per come dire illustrarvela vi do alcuni alcuni numeri la scuola nazionale dell'amministrazione ha 115 dipendenti nel suo insieme l'ENA ha il doppio dei dipendenti ma la differenza con la Francia è che in Francia esistono circa 50 scuole di formazione settoriale che sono quelle che formano i dirigenti e i funzionari pubblici l'ENA forma come sappiamo i veri gran commì consiglieri di Stato magistrati della Corte dei Conti tutto quel settore fatto dai grandi ispettori che lavorano all'interno dell'amministrazione francese se dovesse andare a calcolare in termini di dipendenti o di valore finanziario delle attività formative in Francia paragonate alle nostre sarebbe ti posso assicurare veramente imbarazzante quindi noi siamo chiamati a fare un po' di tutto formazione iniziale per i nuovi dirigenti formazione continua per dirigenti e funzionari già in servizio e con 23 milioni di budget all'anno e 115 dipendenti vi posso assicurare non è semplice ma non dico questo per lamentarmi dico semplicemente che con una struttura del genere nel periodo gennaio-maggio di quest'anno lo dico anche a beneficio di Paolo Weber che è nel comitato di gestione della SNA noi siamo stati in grado e credo sia quasi un record di formare quasi 5.300 persone per un totale di oltre 6.000 ore di didattica quindi a fine anno probabilmente raddoppiate grossomodo per due queste cifre sono cifre oggettivamente alte se raffrontate alla storia della scuola ma se le metto in relazione alla platea potenziale che noi abbiamo davanti sono un pulviscolo se io mi riferisco al nostro riferimento principale che sono i colleghi dirigenti funzionari delle amministrazioni centrali intese in senso lato quindi non solo i ministeri ma enti pubblici non economici agenzie eccetera stiamo parlando veramente di una frazione cioè in 5 anni probabilmente io ho intercettato se mi va ma se mi va molto bene un decimo della platea potenzialmente interessata quindi come capite bene anche il concetto di formazione continua e cioè di aggiornamento di scavo su nuovi mestieri me ne vengono in mente due gli esperti di cyber security di cui c'è sempre più un bisogno disperato nelle amministrazioni e gli esperti che vedremo tra poco io credo anche su un piano formale e giuridico i gestori della sostenibilità all'interno delle amministrazioni che in parte già esistono ma in maniera informale ma che sono ovviamente destinate a moltiplicarsi pensate cosa potrebbe significare creare un sustainability manager in tutti i comuni italiani nelle province e regioni e nelle centinaia delle amministrazioni centrali censite dalla lista nella lista S13 quindi fa bisogno di formativi colossali ovviamente il problema del raggiungimento di una platea di questo genere è però un grosso problema d'accordo allora le attività di e-learning qui chiuderà il convegno il mio maestro di e-learning che è il professor Roncaglia che da oltre un anno ha impresso se Gino me lo consente una svolta alle attività di e-learning della scuola nazionale dell'amministrazione queste attività hanno quindi innanzitutto una vi sembrerà un po' rozzo però una giustificazione quantitativa nel momento in cui la ragioneria generale dello Stato vi sto facendo un esempio molto concreto chiede alla SNA di occuparsi della formazione sulla contabilità economico-patrimoniale su tutti i comuni italiani voi capite bene che gestire in un anno la formazione di oltre 8.000 persone su temi oltretutto tecnicamente molto delicati e complessi è un'impresa senza una organizzazione solida di trasmissione delle conoscenze tramite le nuove tecnologie noi non saremo mai in grado di assicurare un minimo di maturazione professionale ai ragionieri dei comuni sparsi per il paese quindi l'aggiornamento tecnologico per noi è una questione di presenza concreta di fronte alle esigenze che mano a mano si presentano sulle singole amministrazioni è un'esigenza anche che abbiamo a livello di amministrazioni centrali fino a 4-5 anni fa non soltanto nel nostro paese esisteva un sistema articolato di scuole settoriali la scuola superiore di statistica che è la scuola le cui competenze la scuola sta provando a assorbire la scuola superiore di economia e finanze la scuola superiore del ministero dell'interno il centro studio della difesa l'istituto diplomatico Mario Toscano noi abbiamo in capo la formazione dei diplomatici dei prefetti non è semplice vi posso assicurare e soprattutto non è semplice nel momento in cui il legislatore ha deciso che la scuola nazionale non dovesse avere sedi territoriali e venissero cancellate anche quelle della scuola superiore di economia e finanze il forte rischio è che tutto quel bel lavoro che la SNA oggi compie sia confinato ai funzionari dirigenti dei ministeri romani allora ragionare come con Gino spesso facciamo con il professor Roncaglia spesso si fa di modalità di raggiungimento lo stato centrale è presente dappertutto se ci pensate nella regione del professor Zamano nel lontano Friuli c'è comunque ci sono dei tribunali c'è comunque ci sono delle questure ci sono gli uffici scolastici regionali ci sono c'è tutto il sistema delle agenzie fiscali lo stato è pesantemente presente dappertutto ma perché io non devo essere in grado di assicurare un minimo di attività formativa alla dirigente del tribunale di Udine quindi l'esigenza di quindi veramente la cosa che noi viviamo sulla pelle cioè la necessità di infiltrarci in maniera efficace sul territorio è una delle giustificazioni più forti che noi abbiamo ho due ultime considerazioni naturalmente noi sappiamo bene anche di questo si discute spesso con il professor Roncaglia che l'e-learning di per sé non è sufficiente qui ci sono alcune cose molto interessanti che diceva prima Vindice De Plano e anche Antonio Tagliano e qui c'è esigenza di mi sono messo la sveglia quindi so che devo smettere cioè qui c'è anche un'esigenza in alcuni casi di contribuire alla creazione di network tra partecipanti spesso il fatto di potersi guardare in faccia di poter prendere un caffè assieme durante la pausa di pranzare assieme di vedersi magari come è capitato nei casi più felici addirittura quasi dei gruppi di colleghi che si formavano e che si vedevano quasi con con regolarità questo aspetto della dimensione fisica va reso compatibile il più possibile con la con la necessità drammatica ripeto ancora di sfruttare al meglio le nuove tecnologie faccio un esempio banale della mia personale evoluzione sul modo in cui ho interpretato la formazione i primi anni bieche lezioni frontali 10-11 anni fa quindi una platea di 20-30-40 persone davanti a me e lezioni io che non sono accademico finte accademiche d'accordo poi ti rendi conto che devi portare in aula esempi casi concreti e cominci a utilizzare materiali diversi fai partecipare le persone che stanno davanti a te in maniera più attiva l'analisi dei casi di studio diventa uno strumento molto importante ma la platea che ho davanti talvolta è fatta da colleghi che vengono magari da 12 amministrazioni diverse magari il caso che io mi sono costruito preso a esempio che ne so dall'esperienza dell'arma dei carabinieri non ha nessun senso per loro e quindi ti rendi conto piano piano che forse devo cambiare anche la modalità di costruzione della classe che devo avere degli ambienti più omogenei per poter veicolare al meglio certe esigenze poi a un certo punto ti rendi conto che la dimensione della classe è un fatto centrale nell'efficacia delle attività formative sopra le 20 persone la lezione rischia di trasformarsi in una in un rapporto molto difficile da instaurare con i partecipanti e allora piano piano ti rendi conto che magari devi i corsi non li devi creare in maniera troppo ambiziosa 40, 60, 80 ore ma magari devi fare due giornate a gruppi di 5 o 6 persone che attorno a un tavolo si scambiano esperienze hanno davanti a loro un esperto che è in grado di intercettare in maniera più diretta e efficace i loro problemi per cui oggi alla fine io presento soprattutto nel 2019 i corsi in una maniera che spero possa essere efficace una parte iniziale robusta di e-learning caratterizzata da un webinar iniziale per esempio e dalla messa a disposizione tramite la nostra piattaforma Moodle di materiali che possano essere consultati preventivamente dai partecipanti una due lezioni collettive ma non di più e poi classi divise per 4 o 6 persone che ragionano chiuse in una stanza per 6 o 8 ore sui problemi concreti della loro amministrazione forse questa è una formula per abbinare l'utilità molto forte degli strumenti anche di consultazione di materiale a distanza con l'esigenza comunque quasi fisica ripeto di costruire degli ambienti nei quali le persone possano confrontarsi e scambiare le loro esperienze ultimissima considerazione mi scuso per aver sforato i tempi tutte queste attività necessitano comunque di un qualche esercizio di valutazione ora la valutazione di impatto delle attività formative è dannatamente difficile come sappiamo noi alla scuola ci siamo inventati da qualche mese uno standard quality index che intercetta le percezioni dei partecipanti qualità della docenza dei materiali didattici delle attrezzature messe a disposizione ed è uno strumento molto utile in parte superficiale ma che qualcosa in genere di vero te la dice perché quando 20 persone ti dicono che quel docente o quel materiale didattico non ha funzionato quantomeno qualche riflessione la devi fare qui si tratta di fare degli assessment delle competenze delle persone che frequentano i corsi in una fase iniziale questo può essere fatto molto bene tramite appunto le nostre piattaforme informatiche si tratta molto semplicemente di ripetere le stesse domande alle persone alla fine del corso e di capire se quantomeno da un livello nudo e crudo di conoscenze qualcosa sia migliorato e tutto questo è enormemente facilitato dalla messa a disposizione dei materiali diciamo così online e poi va anche fatto un ragionamento di lungo periodo sull'impatto delle attività formative io prima di tutto se voi foste perdonatemi una mia classe io dovrei innanzitutto capire se quello che ho veicolato in aula è servito al singolo partecipante al corso per troppo tempo ci siamo questi vediamo l'effetto sull'amministrazione no l'effetto sull'amministrazione io lo vedo tramite il singolo che ho contribuito o che ho cercato quantomeno di contribuire a formare in una fase successiva posso chiedere alle amministrazioni è una cosa che noi stiamo per fare per il prossimo corso concorso in cui il bando uscirà a giorni noi stiamo andando a chiedere ai vecchi partecipanti al corso se dopo quattro anni di esperienza da dirigente formato alla SNA che percezione abbiano di quello che abbiamo provato a veicolargli quattro anni fa quattro cinque anni fa nel tentativo anche di impostare meglio i nostri programmi però questo aspetto della valutazione dell'apprendimento è qualcosa veramente di essenziale rispetto al quale anche l'evoluzione delle tecniche va attentamente misurata grazie davvero grazie grazie fisio anche per la per la sincerità con cui ci hai riportato i tuoi ragionamenti molto molto interessanti professore richiamato in causa grazie dunque io in questa decina di minuti conclusivi dovrei parlare soprattutto di learning quindi di un aspetto che normalmente è collegato alle tecnologie ma credo che anche in relazione agli interventi che ci sono stati valga la pena guardare a questo tema da una prospettiva un po' particolare che è anche quella di interrogarsi su cosa abbiamo imparato negli ultimi anni di learning ormai si parla da una ventina di anni che sono relativamente pochi ma bastano forse già per dare alcuni sensi di direzione verso cui si sta andando e anche per riflettere su alcune esperienze su cosa ha funzionato su cosa non ha funzionato naturalmente essendo un intervento brevissimo io mi concentrerei su tre temi specifici il primo è legato agli ambienti e non stupisca che anche parlando di learning cercherò di spiegarlo è molto importante il tema dell'ambiente il secondo è legato ai contenuti e il terzo è legato al riuso dei contenuti naturalmente queste sono solo tre scelte abbastanza arbitrarie rispetto a diverse cose di cui si potrebbe parlare però credo che possa essere interessante riflettere rapidissimamente su questi tre temi innanzitutto la questione degli ambienti se c'è una cosa che noi abbiamo imparato non solo per quello che riguarda l'e-learning negli ultimi anni è quanto è importante l'ambiente per le attività di apprendimento sono stati introdotti concetti come quello di ambiente di apprendimento che sottolineano proprio questa importanza io ricordo sempre perché mi ha colpito molto un'esperienza fatta a Londra la fiera del libro di Londra alla London Book Fair c'è ogni anno un incontro che è legato ai temi della formazione what works cosa funziona e tre anni fa mi pare l'incontro era dedicato a un paragone tra i vari sistemi formativi di diversi paesi sistemi formativi di maggior successo sempre complicato misurare il successo di un sistema formativo sappiamo questo è anche un tema delicato dal punto di vista della misurazione sappiamo che ci sono tutta una serie di indicazioni indicatori dalla PISA che funzionano in parte in parte no però degli indicatori ci sono e noi sappiamo che alcuni sistemi formativi in particolare alcuni sistemi formativi nord europei come quello finlandese che è stato e continua a essere uno dei modelli di sistemi formativi funzionanti il sistema formativo canadese per esempio però anche alcuni sistemi formativi asiatici come quello della Corea del Sud oggi si parla molto di quello che si sta facendo a Singapore questi sistemi formativi funzionano molto bene funzionano molto bene pur essendo completamente diversi l'uno dall'altro io parlo della scuola ma si potrebbe dire lo stesso per quello che riguarda l'università e per quello che riguarda il lifelong learning e il life wide learning il modo in cui funziona il sistema formativo finlandese è completamente diverso da quello che funziona il sistema formativo per esempio nella Corea del Sud in un caso ci sono meccanismi in Corea del Sud ci sono programmi e meccanismi formativi molto rigidi contenuti standard per la scuola per esempio c'è un libro di testo unico statale scelto con enorme cura nella commissione che ci lavora sopra ma c'è il modello del libro di testo unico in Finlandia quasi non ci sono i libri di testo se andiamo a vedere come è organizzata la formazione vediamo che ci sono differenze molto forti come mai questi sistemi formativi così diversi danno risultati così buoni e paragonabili per certi versi rispetto ai risultati se andiamo a guardare le correlazioni certo c'è un primo elemento di correlazione importante che è quanto lo Stato spende per il sistema formativo e questo ce lo possiamo aspettare però c'è un secondo correlazione ancora più stretta la correlazione più stretta di tutti è con la risposta alla domanda quanto volentieri vai a scuola per la scuola quanto volentieri fai attività formative quanto cioè la percezione del piacere soggettivo legato alla formazione che è un concetto che per noi è quasi paradossale nel senso che siamo abituati a pensare che se chiediamo a uno studente quanto volentieri va a scuola la risposta è molto poco se chiediamo a un dipendente di una qualunque grande azienda quanto volentieri fai lavoro di formazione la risposta è abbastanza poco in realtà nei sistemi formativi che funzionano la risposta è entusiasticamente alta cioè c'è un piacere della formazione questo è un aspetto che è molto legato agli ambienti perché quando si va a chiedere come mai vai volentieri a scuola e perché la scuola c'è la palestra la scuola c'è la piscina la scuola c'è il ristorante la scuola c'è il bar la scuola c'è la biblioteca la scuola c'è l'aura di proiezione c'è l'aula di musica c'è gli strumenti musicali pensiamo a quello che abbiamo imparato prima si diceva molto giustamente ricordava Antonio il rapporto tra ambiente di lavoro e ambiente di formazione che ovviamente per la formazione continua pensiamo all'esperienza di pochi giorni fa la notizia che l'ivrea della Olivetti è diventata patrimonio mondiale dell'umanità pensiamo a quanto si è imparato sull'organizzazione dei posti di lavoro e del lavoro da esperienze come quelle dell'Olivetti e quanto forse un po' alcune di quelle esperienze siano state purtroppo dimenticate mentre se andiamo a guardare come funziona l'organizzazione del lavoro a Google ritroviamo tutta una serie di meccanismi che in parte erano stati introdotti all'Olivetti quindi l'importanza enorme degli ambienti questo riguarda anche gli ambienti di apprendimento Vindice prima parlava di costruzione di ambienti di apprendimento che offrono l'esperienza di un mondo in un certo senso ecco la costruzione degli ambienti di apprendimento anche virtuali è delicatissima anche qui ricordo rapidissimamente un'esperienza che abbiamo fatto fra l'altro ci aveva collaborato anche Vindice con un master che era partito un master in the learning che era partito Garamond poi è proseguito a cura dell'università della Tuscia in parte in collaborazione in parte poi è proseguito come università della Tuscia in quel master noi eravamo stati tra i primi a introdurre un'aula virtuale ancora non si chiamava così non c'era ancora il video ma c'era l'audio e a noi era sembrato che introdurre un canale audio in cui i partecipanti anziché limitarsi a chattare via testo potessero parlarsi direttamente oggi lo si fa facilissimamente con Skype ma qui siamo parecchio tempo fa fosse un'aggiunta importante e cosa abbiamo scoperto che i partecipanti non usavano il canale audio per parlare tra di loro mentre lavoravano insieme a un lavoro di progetto lo usavano per mandare la musica continuavano a chattare scritto e usavano il canale audio per la musica questo ci dice diverse cose ci dice che in alcuni casi la chat testuale può ancora essere uno strumento efficiente sappiamo quando ci sono grandi numeri in un webinar ancora oggi si usa tranquillamente mentre sarebbe molto scomodo utilizzare per raccogliere impressioni opinioni domande si usa la chat testuale ma anche quanto è importante la percezione dell'ambiente di apprendimento come un ambiente piacevole la musica aiutava la piacevolezza dell'ambiente questa è una lezione che credo si estenda a tutte le organizzazioni che lavorano in qualche modo sulla formazione rapidissimamente seconda considerazione nei contenuti anche qui c'è stata una bella evoluzione nel tempo sulla idea di quali contenuti si potessero utilizzare anche in ambienti di apprendimento online e in ambienti comunque legati all'e-learning il primo paradigma è un paradigma che ci siamo portati dietro in parte esiste ancora è stato il paradigma dei cosiddetti learning object anzi ci si è arrivati in realtà learning object piccoli oggetti autoconsistenti chiusi fruizione breve le pillole di formazione effettivamente il modello delle pillole formative autoconsistenti in parte autonome che possono essere poi riconfigurate in vari modi è un modello molto flessibile ma ci siamo accorti anche che ha dei notevoli problemi le pillole formative di quel tipo sono spesso troppo asettiche non hanno la capacità le attacchiamo l'una all'altra ma non formano veramente una storia per troppo tempo forse abbiamo lavorato su dei modelli troppo granulari di formazione in particolare di uso dei contenuti formativi qui potremmo discutere molto a lungo sulla questione del rapporto tra granularità e complessità online in digitale noi oggi usiamo molto contenuti granulari se andiamo a guardare dai post di un blog ai messaggi di stato di un social network e tweet gli sms le mail e in digitale nell'ecosistema digitale prevalgono contenuti relativamente brevi e granulari questo crea dei problemi abbiamo in particolare le giovani generazioni che sono molto brave a muoversi sui contenuti digitali che sono bravissime a passare da un contenuto all'altro ma sono molto meno brave c'è proprio un gap un deficit di competenze legate alla comprensione alla valutazione alla produzione di risorse complesse strutturate questo è un bisogno formativo generale trasversale che riguarda la scuola che riguarda l'università e che riguarda oggi anche il mondo del lavoro la capacità di far lavorare con risorse complesse allora va benissimo usare anche risorse granulari va benissimo usare anche pillole ma ricordiamoci sempre della necessità di fare anche narrazione di collegare le cose di costruire mondi e qui di nuovo mi ricollego a quello che diceva Vindice perché è perfettamente collegato ultima questione il riuso uno degli enormi vantaggi delle risorse online è il fatto di poterle riutilizzare delle risorse di apprendimento online anche in questo caso il riuso era stato inizialmente collegato a micro contenuti granulari oggi dobbiamo pensare al riuso come un riuso di esperienze formative quindi la possibilità di creare ambienti contenuti esperienze formative che possono essere utilizzate in maniera larga la didattica per secoli è stata una didattica a perdere il docente trasmissiva è a perdere il docente che parla è quello che non si sedimenta nella testa dell'uditorio sostanzialmente è perduto oggi abbiamo tutti gli strumenti per fare una didattica meno trasmissiva e meno a perdere che possa essere effettivamente riusata più volte e anche progressivamente affinata lavorando sui contenuti in maniera un po' diversa da quella del passato ecco da questo punto di vista diventano importanze delle competenze come quella nello storytelling didattico storytelling è una parola alla moda potremmo benissimo parlare di narrazione ma la didattica coinvolgente la capacità di motivare il lavoro negli ambienti belli credo che sarebbe veramente importante riflettere su cosa rende bello piacevole un ambiente di apprendimento o un'esperienza di apprendimento dagli indicatori SNAC ricordava prima il fisio una delle cose chiare come risulta anche a scuola come risulta in tutte le situazioni quanto l'ambiente lo studente cosa ti dice l'aula era un po' scomoda uno dice ma scusa abbiamo fatto un corso sui massimi sistemi la cosa eccetera tu mi vai a dire perché la scomodità fisica dell'aula influenza la comprensione finché io non ho una situazione in cui l'ambiente è percepito come piacevolmente trasparente e ben funzionale rispetto a lo studente si soffermerà sempre sul dire la lavagna non funzionava la sedia era scomoda e questo vuol dire che c'è un deficit nel passaggio a quello che dovrebbe essere invece il tema centrale l'apprendimento avere buoni ambienti diventa una cosa veramente importante io ho provato a riassumere alcune questioni minime ma naturalmente si potrebbe parlare anche di tante altre siamo strettissimi per i tempi domande? domande? poi c'è una grazie grazie molto molto interessante prego la domanda prego tutta la domanda però non abbiamo chiederei in relazione a un'importantissima ricerca fatta molti anni fa ma è dedicata costantemente in vari contesti era una ricerca di Samuel Coleman pubblicato in inglese il titolo era The Adolescent Society negli Stati Uniti in quella ricerca si dicevano tante cose ma una delle cose più importanti è che c'era una profonda differenza nella efficacia didattica empiricamente rilevata e questo è un soggetto di varie discussioni successivamente tra le scuole pubbliche negli Stati Uniti e le scuole private sempre negli Stati Uniti intendendo per scuole private sostanzialmente delle scuole rette da chiese e varie forme o aggregazioni o istituzioni religiose è ricondotta al criterio di istituzioni non profit la spiegazione di questa diversa efficacia nella didattica proposta da questo grande grandissimo sociologo americano è che mentre questo è il punto nelle scuole pubbliche il trasferimento delle conoscenze veniva fatto adottando dei modelli funzionali quindi io ti spiego le cose se le capisci bene se non le capisci è un problema tuo ho un'ora di tempo ti spiego il teorema di Pitagora te lo spiego così e lo impari se non lo impari a perdere conoscenza i migliori imparano e vanno avanti non tutti arrivano alla fine all'università ma comunque hanno superato pian piano il grado nelle scuole private il meccanismo dell'apprendimento non era sostituito ma era pesantemente integrato da un altro meccanismo che era quello che lui definisce lo spirito di comunità scolastica un ambiente di apprendimento dunque riccamente infrastrutturato socialmente le famiglie addirittura entrano nell'attività didattica partecipano costruiscono assieme ai docenti non tanto la didattica quanto la relazione nel contesto scolastico tutta una serie di considerazioni per cui da una parte c'era una fabbrica di studenti più o meno bravi dall'altra parte c'era una comunità che portava avanti il gruppo degli studenti in modo che da raggiungere non tanto l'eccellenza ma una ottima media dei risultati mi chiedo scusate la premessa però il senso della premessa mi pare evidente a me sembra tanto che quando ragioniamo di e-learning si rievochino nel linguaggio anche perché poi il vocabolario quello è una serie di alternative o di sostituti funzionali di questa cosa di questo modello comunitario quando invece il modello di e-learning mi sembra molto più vicino al modello dell'addestramento o della formazione o dell'istruzione funzionale cioè molto meccanico molto individualizzato pochi contatti personali perché ciò che conta è la task orientation da parte di ciascuno studente e a me sembra che questo possa essere una contraddizione che e quindi chiedo se ci sono dei dati in questo senso sulla efficacia dei modelli di e-learning rispetto all'efficacia di modelli più tradizionali di formazione e se la diversa efficacia possa dipendere in qualche misura perché poi ci stiamo occupando soprattutto di adulti e questa è una differenza non di poco conto dal tipo di ambiente formativo che si crea nei due casi è una domanda che richiederebbe di sforare ampiamente rispetto anche alla ma poi naturalmente anche gli altri quello che io posso dire è che l'idea dell'e-learning come trasmissivo e meccanico è un'idea che in alcuni casi è anche giustificata perché ci sono tante situazioni di e-learning relativamente trasmissiva e meccanica però nell'e-learning migliore l'e-learning che funziona è un e-learning in cui invece l'elemento della comunità di apprendimento del lavoro in comunità è un elemento fortissimo sempre quei corsi che ricordavo prima noi abbiamo sempre avuto nei nostri corsi di learning il caffè che è il luogo o il forum intervallo che è il luogo in cui si parla di tutto dell'ultimo film che si è visto dell'ultimo libro che si è letto ci sono meccanismi come i badge che sono dei meccanismi che in certi casi aiutano a rendere più giocoso l'ambiente e a rafforzare il senso di comunità si lavora molto spesso molto in gruppi di progetto e questo crea all'interno del gruppo più ampio delle persone che seguono il corso in e-learning microgruppi in cui il senso di comunità è fortissimo io devo dire che le persone che hanno partecipato a questi corsi qui continuano a essere legate a sentirsi eccetera non meno di quanto non succeda nelle persone quindi molto direi che dipende dai modelli di e-learning utilizzati anche per quello che riguarda i dati di efficacia è molto complicato fare delle valutazioni comparative di formazione in e-learning e formazione in presenza perché la comparazione abbia un senso dovrebbe trattarsi sostanzialmente degli stessi temi con gli stessi obiettivi con partecipanti quindi è abbastanza difficile avere delle situazioni di questo tipo anche perché però quello che ci dicono i dati sulla efficacia delle azioni formative in e-learning è che l'efficacia delle azioni formative in e-learning dipendono moltissimo da quanto bene è organizzato in particolare ambiente interazioni all'interno del corso più ancora della qualità dei docenti se c'è una buona organizzazione naturalmente se c'è una cattiva qualità dei contenuti le cose vanno male a prescindere ma si possono anche avere dei contenuti di ottima qualità che funzionano poco perché l'ambiente e le interazioni all'interno dell'ambiente sono progettate male per questo si parla proprio di progettazione degli ambienti io aggiungerei un po' di base io non penso che sia una questione di contrapporre tecnologia o non tecnologia è una questione di contrapporre tecnologie diverse perché fino a ieri in cui non c'erano le informatiche si usavano tecnologie perché c'era il libro il libro è una tecnologia che ha tutta una storia una sua complessità ma anche lo stilo e la tavoletta d'argilla è una tecnologia quindi noi abbiamo semplicemente cambiato tecnologia nel senso che abbiamo tecnologie nuove e stiamo cercando di applicarle nel modo migliore possibile le relazioni che si creano in una situazione di comunità virtuale di learning sono vere non sono il fatto che non siano spesso in presenza non vuol dire che dietro non ci siano delle persone che hanno le emozioni hanno le cose chiaro che bisogna distinguere tecnologia buona e tecnologia cattiva io aggiungo che è veramente molte volte una questione di dettagli io mi rifaccio l'esperienza di qualche minuto fa la penna per cambiare le slide è fatta in modo da ti istiga e tenerle in un certo modo ma tenendola in quel modo lì se tu premi il tasto per andare avanti in realtà la slide torna indietro se premi quello che scende invece la slide va avanti ora tutti diranno beh è una stupidaggine quella stupidaggine però ti può riempire di ansia cioè ti impappini e quindi l'esperienza è questa di una cosa come questa è una schifezza perché? perché hanno invertito i tasti quindi buona tecnologia che non deve essere siccome è una cosa seria non va lasciata ai tecnici siamo noi formatori e dobbiamo starci con tutta la nostra testa e tutta la nostra capacità non so se vuoi aggiungere qualcosa alla sarda se frasi grazie grazie mille 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 grazie mille